E allora ragazzi, sentite questo commento di Marcus Young, vinciamo la Coppa Italia, andiamo in Europa League, sti gran cazzi del posto in classifica, quest'anno è andato a puntini e puntini dallo scontro diretto con l'Inter, il maestro Pirlo ha iniziato bene la sua carriera, ma più che altro ha iniziato la sua carriera, che è la cosa importante per lui, perlomeno può annoverare di aver già un anno di pratica andato nella Serie A, lui forse interessava questo. Pirlo ha accettato un compito molto difficile, siamo in realtà ancora in gioco perché siamo a 92.30, ma questo Juventus secondo me anche con otto secoli di recupero non riuscirebbe a segnare, io lo sto dicendo da tempo, è più probabile il secondo gol del Benevento che è il pareggio della Juve, quindi è un evento che va a perdere clamorosamente in casa, ma il discorso di Pirlo, partiamo da Pirlo e poi partiamo a tutti gli altri, perché Inzaghi l'ha stravinta questa partita, ma Pirlo ha accettato, tutti dicevano, va accettare un compito difficile perché rischia di bruciare la sua carriera. Secondo me no, perché ha una squadra talmente di merda Pirlo, dove deve giocare con questi giocatori, che secondo me Pirlo non sarà mai e poi mai criticato, perché con questa squadra secondo me pochissimi allenatori, forse nessuno avrebbe potuto ottenere grandi cose, qualcosina in più, qualcosina in più, magari un terzo posto in campionato, cosa che Pirlo non riuscirà a fare, qui Chiesa perde una brutta palla e fa partire il contropede del Benevento, che come era prevedibile, su questo fallo per il Benevento termina la partita, io spengo anche il televisore, non me ne frega più, no vabbè, perché casomai è una figura di merda dopo, che pareggiamo, ma non credo. Però, gol di Brigno, esatto, gol di Brigno, addirittura perdere col Benevento, già all'andata abbiamo detto che erano punti persi all'andata Clavorosi, ma addirittura perdere in casa. Comunque, credo, secondo me da questa squadra qualcosina in più si poteva ottenere, ma la squadra è quella che è e non è solo Ronaldo il problema, guarda Agnelli, nero, nero, ma il problema non è solo la squadra, il problema è tutto la dirigenza, la presidenza, non c'è stato proprio nulla. E finisce qui, il Benevento ha vinto a Torino, una partita che secondo me non è stato mai, ho detto prima, superiore alla Juventus, ci mancherebbe alto, però non è mai stato neanche inferiore. Una partita da 0 a 0 e poi alla fine un infortunio, diciamo così, di Artur che regalava la Galic e poi la Juventus è stata sfortunata. Su alcune occasioni, soprattutto il tiro di Danilo, lì a pochi metri dalla porta a porta vuota, che ha tirato alto, perlomeno un pareggino, ma poteva arrivare alla Juve. Ma comunque non è mai stata la Juventus vicino alla vittoria, una sconfitta clamorosa che farà discutere e che, ecco, partiamo da Pirlo. Qualcuno dirà, quindi, Pirlo out. Io già l'ho detto una volta, la squadra è scarsa. Pirlo rischia di essere il capo espiatorio e mi fa molto paura se Pirlo venisse esonerato. Ma non perché mi piace Pirlo, non perché con Pirlo vinciamo non so cosa, con Pirlo non vinciamo un cazzo. Però è un problema serio, perché se tu adesso mandi via Pirlo e prendi zaccheroni, tanto quelli ci possiamo permettere perché non abbiamo soldi. Levatevi dalla testa che la Juve si vada a prendere Guardiola o Allegri, oppure richiami Sarri, ma Sarri lo odiano tutti. Il punto è, e poi lui non tornerebbe perché questa non è la sua squadra, non la vuole questa squadra, lo odiano, eccetera, eccetera. Il punto è un altro, e farebbe male anche Sarri, comunque. Allora qual è il punto? Inizieremo a dire, ma è colpa di Sarri. No, allora chiamiamo Malesani, è colpa di Malesani. Chiamiamo di nuovo Deleri, ci troviamo, chiamiamo Ferrara, chiamiamo Picchia. C'è Picchia che sta allenando l'undervenire, chiamiamo Picchia. Poi andiamo male, è colpa di Picchia. E facciamo, l'avevo già detto, quello che era successo al Milan. Via Inzaghi, chiama Sedorf, via Sedorf, non mi ricordo l'ordine esatto qual era, comunque ci siamo capiti. Via Gattuso, arriva Gattuso, Brocchi, vi ricordate, via Brocchi, non è buono Brocchi, li chiama a quell'altro. Il problema non è l'allenatore, è la squadra. Io preferisco che rimanga Pirlo, così perlomeno possiamo concentrarci sul fatto che l'allenatore fa cagare, però fanno cagare tutti gli altri. Perché quando vedi giocare Bernadeschi, che fa più casino che altro, quando vedi dall'altra parte Danilo, che da volta gioca regista, da volta gioca terzino, e alla fine non sa neanche lui quello che deve fare, Ronaldo che sbaglia uno stop e tutte le azioni buone le ha avute perché ha sbagliato lo stop, poi nel recuperare palla ha avuto fortuna di vincere un rimpallo, ma lui aveva sbagliato lo stop. Vedere Morata, ragazzi ma l'avete visto oggi Morata? Non ha azzeccato niente, ma proprio niente, cioè non è una cosa sì, una cosa no, niente. Un passaggio, uno stop, su un calcio d'angolo doveva fare uno stop di ginocchio, farsi scendere il pallone e tirare in porta, sbaglia lo stop e fa partire il contropegno del Benevento, un Morata inguardabile. Un Di Bala che ragazzo caro, alla tua età com'è possibile che non riesci più a toccare un pallone? Un anno intero senza Di Bala, ma questo, cioè quando mai è stato così rotto Di Bala, ma quando mai? Quindi qualcosa c'è di serio nella Juventus che si stava nascondendo l'anno scorso, si stava lentamente vedendo quest'anno, l'eliminazione in Champions secondo me l'ha fatta completamente uscire fuori, come drenare un iceberg, e ti rendevi conto che quello che vedevi era appunto, adesso stai vedendo che in realtà il 70% del ghiaccio stava tutto sotto. Questo è solo l'inizio, secondo me, di una lunga caterva di risultati molto clamorosi che vedremo a Torino, perché secondo me c'è qualcosa di importante che sta accadendo, giocatori sul piede di partenza, altri confermati, altri non confermati, non c'è gruppo nello spogliatoio, quindi quell'entusiasmo parto da Pirlo è andato veramente lontano, quindi di questo si può parlare, di una Juventus che sta chiaramente mostrando proprio gli incubi dei tifosi juventini che diciamoci la verità ci sono stati già dal dopo Pirlo, scusa, dopo Allegri, quindi prima di constarli e poi adesso con Pirlo. Gli incubi erano questi, di una squadra completamente da rifondare, e l'errore allora detto a posteriore è stato mandar via Allegri, ma, fermi, l'errore non è perché Allegri doveva restare, Allegri aveva detto o resto io e mi cambiate mezza squadra, oppure lasciate questa squadra e me ne vado io, e la società ha fatto l'opzione più facile, ha mandato via Allegri, dopo che in realtà aveva prolungato il contratto, aveva prolungato il contratto anche a Mandzukic, alcuni suoi beniamini, lì è stato il problema, secondo me, doveva ascoltare Allegri e dire ok allora mandiamo via mezza squadra pur di tenerci te, doveva andare così, è stata scelta l'opzione più facile perché pensavano di poter comunque ricostruire una grande squadra, perché si diceva che il potere della Juve, la forza della Juve è la società, non è l'allenatore, eccetera, non è affatto vero, non è affatto vero, la squadra è data anche dalla qualità degli uomini, quando purtroppo Morata sembra che mi ha molto deluso, io ero felice del ritorno di Morata, perché secondo me si parlava tra Morata e Geico, preferivo Morata, non Hollande, siamo stavolande che la Juve non se lo può proprio permettere, ma Geico mi sono detto vabbè, magari Morata è giovane, può essere che faccia del bene e si fa una squadra di ripartenza, ma vedere Morata così ragazzi è stato veramente imbarazzante, cioè mi imbarazzo io per lui, mi dispiace che il giocatore che stava giocando forse meglio che era Artur, poi è quello che ha sbagliato, l'errore è stato clamoroso, ancora una volta clamoroso come, che ne so, sportiero dell'Atalanta che regala palla a Modric, cioè una roba del genere, capite come è successo in Champions, sempre per questo fatto di non buttare palla da dietro, però credo che oggi veramente il tracollo totale dei totali di una situazione che sta andando veramente a rotoli, tutto male, tutto male nella Juventus e quindi credo che oggi veramente abbia toccato il fondo, perché oltre alla definitiva, ormai matematicamente c'era questa speranza, ma adesso proprio la definitiva scomparsa di qualunque sogno scudetto, si ferma a nove i scudetti di fiera della Juve, ma adesso si rischia anche per la Champions, attenzione, attenzione, il posto Champions sarebbe importante, almeno quello per partecipare a quella lì. L'unico punto, ecco, vedete anche questo discorso qui si parla di fagioli, questa è un'altra cosa che non riesco bene a capire, sto povero ragazzo ha giocato due volte e ha giocato anche bene, ma veramente ha giocato bene, non ha commesso nessun errore, neanche un'indecisione, un'imprecisione come Frabotta, che ad esempio ha giocato male quella partita a Milano con l'Inter, e lì effettivamente è stato dominato da Hakimi, e quindi lì Frabotta, poi è rientrato Alexa, ma fagioli, ma che cazzo ha sbagliato sto povero ragazzo per non giocare più neanche sul 3-0 contro Chier, era lì il Crotone contro Chier, ma perché non può giocare più sto ragazzo contro lo Spezia, niente, ha entrato di pardo, fagioli, tutti che vogliono fagioli, fagioli è entrato per due o tre volte di pardo, ma perché? Perché veramente ci sono delle cose molto strane, che quindi è una situazione così, Allegri non tornerà ragazzi, nessun allenatore in questo momento si viene a prendere questa Juventus, cioè chi è l'allenatore, allora o prendi un'altra volta, ripeto, o prendi un'altra volta qualcuno nuovo, prendi il picchia, prendi quello lì che allena la primavera, oppure puoi prendere sempre qualche emergente, Udor, saggente così, oppure decidi di andarti a prendere gente di esperienza come Allegri, ma Allegri, secondo te viene a Torino per allenare Bonucci, De Ligt, Danilo a destra, Bernardeschi a sinistra, a centrocampo staggente così, ma Allegri non verrebbe mai allenare staggente, Allegri aveva un Chetira in forma che all'epoca valeva tantissimo, Pjanic che comunque per quanto poteva far cagare, però comunque un pochettino il centrocampo lo faceva girare quando era in forma, aveva Douglas Costa a destra, aveva Manzuchic a centro dell'era di rigura, aveva Iguain di bala, dicevo quello poi non aveva Ronaldo, vabbè ma capito, a me pare che poi la Juve, non so, ah beh i rigori, sì sì i rigori, i rigori, sì, allora, bisogna parlare dell'episodio, ok, sul finale, dopo che abbiamo detto, sparato tutto il fango che si può sparare sulla Juve, per me quello lì poteva essere tranquillamente un rigore, perché un giocatore se scivola in area, comunque commette, diciamo, si va a intreppore tra il pallone e l'attaccante, e l'avversario, quindi tecnicamente sì, causa un danno, eccetera, però vabbè, più o meno una cosa simile, quando, no, Mertens si mette tra, tra, tra Mertens si mette tra, tra Mertens si mette tra il pallone, e si prende un calcio, no, una cosa un po' così, involontariamente quello, però vabbè ma ragazzi, ma col Benevento in casa abbiamo bisogno del calcio di rigura all'ottantaquattresimo, cioè questa è la domanda, tu Benevento in casa vinci già nel primo tempo 2-0, quindi, i problemi sono molto 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 seri, e la Juventus deve capire che vuole fare, una squadra, la fortuna della Juve è che anche grandi altre squadre stanno avendo problemi, come il Barcellona, che sta precipitando di brutto, il Real pure adesso è andato avanti in Champions, però ormai sono anni che non ha grandi possibilità e così via, quindi, quindi la fortuna della Juve è proprio questa, dire ok, siamo una grande squadra che dopo anni, almeno in Italia di vittoria, è il momento di ripartire, vediamo un po' che riusciamo a fare, però, ehi spallette, chi ce l'ha i soldi per le spallette? Ragazzi, la Juventus ha una crisi economica gigantesca, e l'eliminazione dalla Champions, e anche partite del genere, fanno precipitare ancora di più i titoli in borsa, uno stadium che a differenza di altre squadre tu l'hai pagato, e se l'hai pagato è perché in cambio devi avere dei soldi, e ogni domenica l'incasso sono soldi in meno, guardate che se uno stadio fa pure 2-3 milioni di euro a partita, e tu lo tieni chiuso per 20 partite, quanto fa? Quanto fa? 3 per 20 fa 60 milioni, levaci poi le spese, magari l'impianto, perché comunque i riflettori stanno accesi, l'impianto è acceso, il drenante se piove, quello è tutto acceso, il risparmio un pochettino, qualche hostess, qualche cosina così, ma alla fine il risparmio è pochissimo rispetto a... E tu intanto con quei soldi lì ti paghi praticamente, monti in cargi di quasi tutti i giocatori, per dire quello sta, sono soldi che perde la società, scusate, ma gli incassi delle squadre di calcio, ma quali cazzo sarebbero? Senza Covid, i diritti TV, e poi i gadget, le magliette, queste robe qui, come fanno a guadagnare queste squadre? in borsa, e la Juve sta precipitando il titolo, quindi levatevi dalla testa, compriamo Holland, prendiamo spallezzi, vabbè, ciao, la situazione è così, vabbè, ci stanno, sono anni di ripartenze, io da tifoso che ha seguito la Juve, anche in Bia, ha visto anche momenti di crisi, ha seguito la Juve di Ferrara, dell'Era, eccetera, sono preparato a queste cose, mi dispiace per i ragazzini, per i neotifosi, che tifavano Juve, perché intanto ti fii Juve, vinci sempre il campionato, e invece esiste anche una cosa, che si chiama sconfitta, cioè, è lì il punto, capito, però vedremo un pochettino che, ma non credo che il problema, sia un attaccante solo, e poi guardate, a parte tutto, Suarez, può essere pure la battuta, del giorno, ma il problema ragazzi, non abbiamo neanche un attaccante, di riserva, cioè, togliendo di bala, che infortunato, non abbiamo, abbiamo quel portanovo, quel ragazzo, pure quello abbiamo dato, abbiamo favilli, tutti, stiamo dando, e qui non è che sono per soldi, quindi una gestione completamente, alla cazzo di cane, nella società, che è la prima colpevole, prima, prima, colpevolizzate la società, e poi ve la via decopirlo, eventualmente, comunque vabbè dai, 14 minuti è pure parecchio, vi saluto, mi raccomando, fate i bravi, buon weekend a tutti i ragazzi, e se volete, io qui, da domani, tornerò a giocare, a FIFA, che perlomeno, FIFA per PlayStation 5, perlomeno a FIFA, spero di riuscire a vincere, con la Juve, spero, però almeno, mi sono creato un giocatore, di nome Strecco, sto facendo la carriera, giocatore che è più divertente, magari, Ken, un altro, veramente, mi fate incazzare, ancora di più, se leggo il nome di Ken, vabbè, ci vediamo ragazzi, fate i bravi, buon fine domenica a tutti, ciao!